entrando da lei l'angelo disse ti saluto piena di grazia il signore è con te si è benedetto maria il saluto celeste che l'angelo di dio ti rivolse nell'annunciazione ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen ti saluto o piena di grazia sia benedetto maria la grazia sublime di cui l'angelo di dio ti dichiarò piena ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte l'angelo le disse non temere maria perché hai trovato grazia presso dio ecco concepirai un figlio lo darai alla luce e lo chiamerai gesù si è benedetto maria il lieto annuncio che l'angelo di dio ti recotta al cielo ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte ame allora maria disse eccomi sono la serva del signore sia benedetto maria il saluto celeste che l'angelo di dio ti rivolse nell'annunciazione ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte ame avvenga di me quello che hai detto sia benedetta o maria la perfetta o maria la perfetta adesione con cui rispondessi alla volontà di dio ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte ame la vergine concepirà e partorirà un figlio sia benedetto maria l'angelica purezza con cui accogliessi nel tuo seno il verbo di dio ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte ame in lui era le vita e la vita era la luce degli uomini sia benedetto maria il momento in cui il figlio di dio si vestite la tua carne ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte ame a che debbo che la madre del mio signore venga a me sia benedetto maria l'attimo sublime in cui divenissi la madre del figlio di dio ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte ame il signore è mia luce e mia salvezza sia benedetto maria il tanto atteso momento in cui iniziò la salvezza umana con l'incarnazione del figlio di dio ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte ame ave o maria piena di grazia il signore è con te o dio che tramite l'annuncio dell'angelo ci hai fatto conoscere l'incarnazione del tuo verbo nel grembo virginale di maria ti preghiamo di guidarci fino a te per i meriti della passione della croce di tuo figlio e nostro signore gesù cristo e per l'intercessione dell'immacolata sempre vergine maria sua e nostra tenera madre ti chiediamo mermente di concederci la grazia che ti domandiamo con questa novena amen grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti